Buonasera a tutti, è con piacere che annunciamo questo evento che abbiamo organizzato come Beantec qui all'Orto Botanico. L'obiettivo è quello di creare consapevolezza sulla possibilità di utilizzare tecnologie come l'intelligenza artificiale, il machine learning e il deep learning applicate all'industria del nord-est. Qui non siamo alla Silicon Valley, siamo alla Manufacturing Valley, ma comunque queste tecnologie possono essere molto utili per creare valore e creare nuovo business delle imprese locali. Noi come Beantec ci poniamo proprio come intermediario tra quelli che sono i grandi vendor internazionali che producono tecnologie in questo senso, la ricerca e sviluppo dell'università e noi come Beantec poi prendiamo questi fattori e li portiamo dentro le aziende che producono impianti macchinari e servizi e insieme creiamo del business a partire proprio da queste tecnologie digitali.